Questa è la storia di Francesco Dominici, pastore della ciociaria. La sua forza è stato un esempio e anche gli altri pastori hanno avuto finalmente il coraggio di lottare. Da queste parti molte storie sono accadute. Quella che vi racconteremo si è svolta di recente su queste montagne. Hanno vinto tutti insieme perché soltanto uniti gli uomini vincono. Soltanto uniti gli uomini ottengono giustizia.